Un nuovo slancio per la ricostruzione del centro Italia che comunque procede a macchia di leopardo. Secondo il rapporto pubblicato lo scorso 22 agosto dal commissario Lignini, a cinque anni dal sisma del 2016 la ricostruzione in Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio sembra finalmente accelerare. Nel giro di un anno il numero di domande approvate di cantieri autorizzati dagli uffici speciali è raddoppiato. Il 30 giugno 2020 le pratiche erano 5.325. Esattamente un anno dopo ne sono diventate 10.263 di cui oltre 3.300 sono pervenute nel primo semestre del 2021. È la conseguenza delle ordinanze del commissario straordinario che si è insediato circa un anno e mezzo fa, nonché delle misure adottate da Roma. Si pensi ad esempio al super bonus che prevede detrazioni fiscali per adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il volume del contributo richiesto per le domande presentate è di 5,4 miliardi e le domande ha dichiarato Lignini sono un terzo di quelle realisticamente attese. Quando la terra tremò infatti gli edifici dichiarati inagibili sono stati in totale 80.000 ma non tutti saranno oggetto di richiesta di contributo. Ad ogni modo la sfida è ancora epocale. Sono migliaia gli interventi da realizzare sia pubblici che privati. 3.550 sono solo quelli su edifici di culto. In Abruzzo sono 23 i comuni ad essere stati colpiti dal sisma, 12.941 le case danneggiate, di cui 6.382 con danni lievi e 6.559 con danni gravi. Ed è proprio in Abruzzo che nell'ultimo anno si è registrato l'incremento maggiore di domande accolte per la ricostruzione privata, il cui numero è aumentato del 197%. Vi sono comunque profonde differenze tra comune e comune. E ora dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono attesi circa 1 miliardo e 800 milioni destinati allo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 e da quello della 2016. Dovrebbero essere spesi per le infrastrutture, per la transizione ecologica, per la connessione digitale, per lo sviluppo sostenibile e a sostegno delle attività produttive. Il 24 agosto è stato il quinto anniversario dal terremoto più significativo, quello di magnitudo 6.0, che costò la vita a 299 persone. Per l'occasione si è svolta una cerimonia commemorativa ad Amatrice, luogo simbolo della devastazione, a cui ha partecipato anche il premier Mario Draghi.